Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Presidente Affronti, buongiorno. Torniamo a parlare di impianto di Piero Lisi. Sappiamo che ha trasmesso al Ministro dell'Ambiente che ha competenze di vigilanza una delibera di Consiglio Comunale dove il Comune di Voghera riafferma la piena contrarietà alla realizzazione dell'impianto. Ma quale risposta spera di ottenere dal Ministero? Sicuramente io penso una cosa, che maggiore attenzione c'è sul tema e minore sia la possibilità di un'analizzazione perché più controlli ci sono e meglio è su queste cose. Io sono da sempre fermamente contrario alla realizzazione dell'impianto di Piero Lisi ma non perché sono contrario a priori a tutte le cose, no a prioristico a tutto ma credo che fare inoltrepo un impianto di questo genere alle pendici delle nostre colline con il nostro territorio, il nostro ambiente, i nostri prodotti tipici che cerchiamo da anni di valorizzare e di rilanciare è tirarsi una zappa sui piedi terribile perché noi non possiamo permetterci che all'ingresso dell'oltrepo ci sia un impianto, un mostro che bruci dei copertoni e degli pneumatici. Ecco perché veramente abbiamo fatto tanta fatica anche come Voghera per rilanciare il capitale dell'oltrepo, per rilanciare il vino, il salame, i formaggi, prodotti tipici eccetera e poi andiamo a realizzare un impianto di questo genere cerchiamo di sollevare il maggior pulverone sussibile speriamo che la regione della Lombardia che deve dare l'autorizzazione non la dia proprio perché se ci tiene al nostro territorio noi vogliamo essere il sud della Lombardia ma il sud inteso in senso negativo ma vogliamo essere un territorio tutelato come eccellenza di Lombardia il nostro trepo è un'eccellenza da un punto di vista ecologico e da un punto di vista dei prodotti tipici quindi vogliamo continuare a fare che lo sia e vogliamo difenderlo con le unghie e con i denti io questa cosa, questa delibera del Consiglio Comunale approvata diciamo pochi giorni fa l'ho trasmessa al Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti lunedì l'ho trasmessa a regione della Lombardia l'ho trasmessa a provincia di Pavia proprio per ribadire il fermo no del Comune di Voghera a quello che è la realizzazione proprio al confine con il nostro Comune perché la verità vera è questa che viene fatta al confine quindi le ricadute maggiori saranno poi su Voghera oltre che su Rettorbido e sull'Oltrepò e quindi vogliamo assolutamente che questa cosa si realizzi e cercheremo di fare più tantam possibile per tenere alta l'attenzione per fare in modo che chi deve dare l'autorizzazione non la dia proprio perché ascolta il suo territorio e il territorio dove credo che ogni amministratore anche quello regionale deve poter rispondere ai propri cittadini e quando i propri cittadini non vogliono una cosa questa non debba essere fatta indipendentemente che poi ci siano dei parametri di legge che vengono rispettati perché poi sappiamo tutti che i parametri di legge formalmente vengono sempre rispettati se vengono date le autorizzazioni però poi questi impianti sono sempre impianti che potenzialmente hanno dei rischi poi per il futuro quando vanno a regime Lei ha detto che la Regione con gli organi di competenza sta effettivamente valutando che ci siano quelle caratteristiche che potrebbero evitarne la realizzazione ma per le persone che non lo sanno quali sono queste caratteristiche? Anche una commissione perché l'assessore Terzi che è l'assessore competente è venuta il 13 di luglio a Retorbido ed ha detto che ha nominato una commissione di esperti che valuterà l'impatto ambientale quindi naturalmente poi saranno gli esperti a dire se sul territorio si può fare o non si può fare io credo però che da un punto di vista non sono un esperto ambientale però credo che non ci vuole un esperto ambientale per dire che nel nostro territorio questi impianti non vanno fatti Prima parlava di confini durante la conferenza stampa ha detto che è stato attuato un protocollo d'intesa tra i comuni del circondario di cosa si tratta? Un protocollo d'intesa che semplicemente ribadisce il no di tutti i comuni confinanti con Retorbido a questo impianto perché su questa cosa vogliamo fare massa critica quando si dice no a un impianto di questo tipo più si è e meglio è e quando le istituzioni locali si uniscono io credo che nessuno possa permettersi anche avvalendosi magari di norme legislative di disattendere quello che è il volere democratico che gli enti locali danno ed esprimono a tutela dei loro cittadini Tutti i comuni sono d'accordo? Il protocollo sta per essere firmato da tutti i comuni di Mitrofi e penso che nessuno non sia d'accordo perché penso che la ragione voglia che tutti dicano no come abbiamo detto noi sin dall'anno scorso come Voghera quando la cosa stava per venire fuori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti